viaggi prova la nuova la ducati gp 13 non ho capito se è uno scherzo oppure no non il fatto che viaggi proverà una ducati quello mi sembra evidentemente vero quanto il fatto che ci sia gente più preoccupata della cosa che felice che questo accade in un mondo dove le novità sono pochine quello della moto gp questa cosa fa paura invece di essere contenti di avere qualche cosa da scrivere finalmente trovo inconcepibile che ducati faccia provare viaggi con tutti i fior di piloti che ha dice qualcuno preoccupato ma non si capisce dove siano questi fior di piloti e infatti non è la ducati che fa provare la moto a viaggi la ducati ufficiale ma pramac ossia il signor campinoti sponsor 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 cioè uno che mette i soldi e che ha un pilota fermo e l'altro dietro che finisce dietro e ha detto a ducati io metto i soldi ho bisogno di visibilità questa cosa è un gioco solo i meno furbi non lo sanno o non vogliono saperlo poi ai fans piace sognare ma bisogna essere realisti la moto gp ha bisogno di questa cosa ecco perché si fa pramac ha bisogno di questa cosa mediaset ha tanto tanto bisogno di questa cosa e viaggi si diverte a fare questa cosa perché gliela fanno fare e tutti sanno che è tanto per fare più o meno questa cosa ne hanno bisogno anche i giornali di questa cosa eppure si scandalizzano si scandalizzano soprattutto gli uffici stampo occulti di certi piloti che hanno una paura fottuta che un viaggio in forma e che prende le cose sul serio possa far bene davvero purtroppo è difficile che questo accada perché non sarà un test vero ossia max non avrà tutte le possibilità per fare davvero bene bene oltre al tempo ovviamente quello manca di sicuro poi un po di ruggine da togliere insomma poi è chiaro max farà del suo meglio perché non sa fare le cose senza impegnarsi ma questo è un altro discorso max fa bene ad accettare di provare mi fa tutto tranne che ridere quello che fa ridere è il terrore di certa gente pronta a sminuire anche il valore di un pilota perché fa una semplice prova come se fosse vietato per il gusto di infangare di insultare eccetera nel dubbio si dà addosso a biaggi tirando fuori la finta scusa del rispetto per gli altri piloti oltre alla misteriosa capacità mancante di sviluppo dovrebbe mancare questa non si sa per che cosa chi l'ha deciso rispetto che però non è stato tirato fuori quando canepa ha provato la ducati di cieca e badovini un pilota della stock me l'ha detto anche lui è un regalo che mi hanno fatto mentre inviare biaggi che ha 25 anni di esperienza e sei mondiali è una pippa che non ha diritto a provare una moto clienti da fastidio io piuttosto l'avrei messo sulla ducati panigale ma anche no visto che quella moto ha problemi non risolvibili mantenendo la moto di serie quello è stato un test inutile quello di canepa fatto da un team sviluppo finto che non ha portato alcuna innovazione anzi hanno girato con l'avantreno vecchio se proprio lo volete sapere e sui canepa su cui canepa ha detto che di fatto è stato un regalo lì sì cieca è stato infastidito e badovini sminuito ingiustamente con nessuna utilità a fini di sviluppo quello è stato un contentino a battà e alle apparenze per un rapporto che secondo me è già finito un test inutile un test gioco anche lì problemi di sponsor di una persona che ha speso dei soldi e ai piloti che non girano perché non so se l'avete capito che nel 2013 le moto devono girare in qualche modo o in gara o fuori gara e devono finire sui giornali o per un motivo o per l'altro lo sponsor lo richiede esattamente un test gioco secondo me è quello offerto a max a scopo pubblicitario max ha giustamente accettato magari anche per la curiosità legittima di provare una moto gp adesso che non ha più impegni non ha più pensieri le dichiarazioni dice abatti è responsabile della ducati moto gp del progetto gp sono addirittura superflue tanto è chiara la cosa lo hanno capito tutti tranne i bimbi minchia e i fifoni che si preoccupano che possa succedere chissà che cosa mettere in ombra chissà chi e avrebbero invece dovuto titolare pramac regala prova grossa moto rossa per i vader romano sarebbe stata una cosa più giusta più onesta invece di far fugliare a bambera come al solito